Ciao a tutti ragazzi, sono CiccioBai11 e oggi ragazzi siamo qua tornati in un nuovo video. Siamo tornati su Clash of Clans, raga, ho modificato un po' il villaggio, raga, e oggi possiamo fare, possiamo diciamo addestrare con 200 elisir lo strecone. E' veramente una cosa, diciamo, buona, così non sprechi tanto gli elisir. Comunque raga, facciamo una battaglia, io comunque vi volevo ringraziare perché siamo quasi a 200 iscritti, raga, grazie. Allora, questo no, manco questo, questo c'ho le mura al 6, al 5. Vediamo, questo, sì, dai, mamma mia, tantissime cose fuori, brutto villaggio, secondo me. Però io c'ho un paio di cose fuori, però di meno, raga, e così gli faccio almeno una stella e mi accontento. Poi qua c'è vicino alla fabbrica degli incantesimi, se vedete c'è la cassa delle gemme, io la rimuovo perché mi danno, raga, questa qua. Mi danno 25 gemme, una cosa del genere, e io la rimuovo per 25.000 ore, tipo, ad esempio, no. Forse mi sto confondendo con l'altro. Allora. Sì, una stella l'abbiamo presa, a me va benissimo. Chi è che attacca ancora? Ah, ecco qua. Questi due arciari. Vabbè, raga. Io danno. Così, possiamo, ci sbrighiamo. Evento completato. E mi hanno preso 30 gemme. Mio Dio. Ah, non lo sapevo sta cosa, comunque. Comunque, raga, ho potenziato l'estrattore di sirra a livello 8, che non è male. Poi la bomba aerea a livello 2. E poi il depositor di livello 7. E poi ho modificato, diciamo, il villaggio, anche l'arco X a livello 2. L'arco X è molto, molto forte. Vabbè, raga, addestriamo le truppe. Allora, io ho 3, così. Metto, non ho aspettato. Metto, io spreco delle gemme, raga. Così si fa più veloce. Insomma, lo completo subito. Questo addestramento. Uno. Facciamo così. Raga, io non li volevo sprecare. Però, dai, per il video lo faccio. Continuiamo, raga. Eeeh, ma che villaggio è, zio? Dai. Troppo facile. Troppo, troppo facile. Questo è troppo difficile, invece. Eeeh, madonna, che villaggio. Che è successo? Però, raga, che villaggio, però. Poi, strani. Beh. Queste sono, non sono troppo facile. Eeeh, qua, insomma. Beh, attacchiamo, raga, attacchiamo, attacchiamo. Attacchiamo, attacchiamo, attacchiamo. Attacchiamo. Io faccio così. Eeeh, gli stregoni e c'è il gigante. C'era a livello 2, tra poco c'era a livello 2. Ancora deve finire nel laboratorio. Allora, questo è arabo, benissimo. Dai, ammanna una stella. Dai, il mortaio è fortissimo, mamma mia. Poi io lo voglio portare a livello 4, ma ci vuole il municipio a livello 6. Dai. Perfetto, 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 il mortaio. Ok, perfetto. Ora prendiamo il municipio e facciamo una stella. A me va benissimo. Siamo a mille coppe su Clash of Clans. Buone. Mille trofei, mille coppe. Dai, dai. Non mi direi che non ci riusciamo, raga. Dai. Poi ho potenziato anche la torre della scena a livello 5. Manca una stella. Dai. Che cosa è successo? No, no, no. Davvero, abbiamo perso. Abbiamo perso, meno 24, 25, niente, niente. Quasi mille, raga, quasi. Vabbè, sono quasi a livello 8, raga. Qua la miniatura a livello 10, raga, pazzesco. Poi qua c'abbiamo qualcosa da buttare. Niente. Io, raga, guardate, il municipio ci vuole, per portare a livello 6, 750.000 oro. Io ne ho 653.000 e 11. Guardate, cosa ho fatto? Guardate, cioè, ma dico, sono quasi all'oro per potenziare il municipio a livello 6 e quindi posso avere il volano, la bomba gigante, un altro estrattore, mineratore, 25 mura, wow, potrebbe bombardare un altro arco X, un altro mortaio e per due trappole. Vabbè, raga, spero che il video sia piaciuto. Se fosse così, raggiungiamo i 10 mi piace perché l'altra volta abbiamo raggiunti, anzi superati. Lasciate 10 mi piace nel prossimo episodio. Bella. Grazie, raga.